Sono due maschietti, l'ultimo nato del 2020 e il primo del 2021. Nella provincia di Grosseto l'ultimo nato è Kilian. Il parto è avvenuto il 30 dicembre alle 19.50. Il bambino di 3,9 kg è nato da mamma Erika con parto naturale. Il 31 dicembre nessun bambino è venuto al mondo. Il piccolo è il primo figlio della coppia e la sua famiglia abita a Roselli. Si chiama invece Omer, il primo bimbo venuto alla luce nel nuovo anno, terzo figlio di Almira e Isette, giovane coppia di origini kosovare, residente a Grosseto. Il piccolo è nato da parto naturale alle 7.38 della mattina e pesa 3,5 kg. Nel 2020 in ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Grosseto sono nati 1.106 bambini. L'arrivo del Covid ha reso più complicato, anche un momento unico come la nascita di un figlio. E anche in questo ambito l'azienda ha messo in campo procedure e percorsi dedicati per garantire la totale sicurezza delle donne e dei loro bambini realizzati dai professionisti sul campo. Ginecologi, ostetriche, infermieri, osse da tutti gli operatori del Materno Infantile del Misericordia che si prendono cura della donna e del bambino dalla gravidanza alla fine dell'età pediatrica. Nel comune di Grosseto nel 2020 ci sono state più nascite, infatti al 20 dicembre erano 563 i bambini nati contro i 480 del 2019.